Il figlio si è recato a Capodistria per pagare le sanzioni combinate a lui e al padre per quanto accaduto nella notte tra il 15 e il 16 dicembre. Stando a quanto riporta il giornale, il figlio si è recato il 21 dicembre a pagare i 455 euro della multa per guida contromano condotta in riguardosa verso pubblico ufficiale e resistenza pubblico ufficiale e i 200 euro verbalizzati a lui perché si era rifiutato di uscire dalla clinica dove era stato condotto il padre. L'82enne dovrebbe ricevere un'ulteriore sanzione da ben 1200 euro e perdere 18 punti della patente come prevede il codice della strada della Slovenia per essersi rifiutato di sottoporsi all'alcol test. Alza il gomito, poi importuna la barista e infine dai ne scannescenze contro i carabinieri. È stato arrestato un 33enne romeno nella notte tra giovedì e venerdì. Il giovane ha iniziato a bere in un bar di Via Ghega ma non è riuscito a controllarsi e dopo qualche bicchiere di troppo verso la mezzanotte ha cominciato a importunare la dipendente del locale senza darle tregua, tanto che la donna, stremata, ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile ma l'uomo se l'è presa anche con loro. Arrestato e portato al comando di Via dell'Istria, anche qui il 33enne ha proseguito nella sua sceneggiata. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari dal PM Lucia Maldovin, per lui l'accusa di resistenza pubblico ufficiale. Personale del settore di polizia di frontiera terrestre di Gorizia, presso l'ex valico e confinario di Sant'Andrea, ha fermato un furgone con targa rumena proveniente dalla vicina Slovenia. Tra i passeggeri è stato identificato un cittadino rumeno di 55 anni sul quale pendeva un ordine di esecuzione di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. L'uomo doveva scontare due anni, 11 mesi e 26 giorni per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Grazie a tutti.